palazzo blu posto sul longarno meridionale nel cuore del centro storico della città è un'antica dimora nobiliare restaurata e gestita dalla fondazione pisa è un centro di esposizioni temporanee di attività culturali e al suo interno si trovano alcune sale con reperti archeologici e la dimora nobiliare al piano terra è allestita la quantum jungle un'installazione artistica interattiva che combina la fisica quantistica con l'interattività tattile e giocosa toccando il pannello si visualizza come si muove una particella quantistica nel regno delle cose minuscole dove le particelle sono libere dalle costrizioni della fisica classica la danza dei quanti può esprimere la sua bellezza nei piccolissimi blocchi della materia dentro tutto ciò che abbiamo intorno c'è un intero mondo nuovo invisibile ai nostri occhi nelle tre sali situate nel sottosuolo di palazzo blu si trova un esposizione archeologica permanente che illustra la storia di questo complesso architettonico e del suo contesto insediativo a partire dal mille quando la città alto medievale crebbe sulla sponda sinistra del fiume nell'area chiamata oltrarno e si sviluppò il quartiere di chinsica è qui che sorsero le residenze delle più influenti famiglie pisane del 200 e del 300 quando la repubblica marinara fu all'apice della sua potenza economica e commerciale ed è ancora in questi spazi trasformati in ampi palazzi che trovarono dimora molte nobili famiglie di origine pisana e poi fiorentina quando nel 500 la città e il suo territorio furono incluse definitivamente nello stato mediceo i reperti esposti in vetrine organizzate per contesti coerenti illustrano i modi di abitare e la vita quotidiana di coloro che hanno abitato nel palazzo e nei suoi immediati dintorni dal settimo secolo dopo cristo fino alle soglie dell'unità d'italia le sale che costituiscono il secondo piano dell'edificio sono state allestite con criteri più propriamente museali con una distribuzione delle opere ordinate in modo cronologico nell'intento di suggerire una panoramica delle presenze pittoriche più significative a pisa nel corso dei secoli i dipinti qui presenti provengono in buona parte dal ricco patrimonio già di proprietà della cassa di risparmio di pisa che nel corso degli anni è stato integrato dalla fondazione pisa con un piano di acquisti mirato ancora in atto il principio ispiratore con il quale la collezione è stata concepita e legame delle opere con pisa e il suo territorio per autore committenza provenienza o tema le opere vanno dal quattordicesimo al diciottesimo secolo grazie a tutti grazie a tutti tutto il piano nobile del palazzo in particolare le stati stanzi prospiscenti lungarno è allestito secondo criteri che vogliono valorizzare il suo carattere di residenza nobiliare e propone un esempio di quello che doveva essere l'aspetto dell'abitazione di un'importante famiglia pisana ottocentesca le sale con decorazioni pittoriche che vanno dalla metà del settecento al primo decennio del novecento sono arredate con mobili di varie epoche secondo il gusto eclettico del tempo i mobili provengono dalla famiglia giuli ultima proprietaria del palazzo dalle raccolte simoneschi e da altri palazzi nobiliari toscani e creano come nella sala della musica e nella sala da pranzo ambienti di grande suggestione i dipinti che completano l'arredamento sono stati scelti tenendo presenti i gusti dell'epoca ispirati dalle tradizioni locali e dalle ambizioni di famiglia ispirati di verità Grazie a tutti.